battuta troppo facile siccome con la stagione siamo partiti col piede giusto io ho provato a venire a trovarne uno ancora più grande ancora più giusto per far partire bene il nostro corso no allora benvenuta un'idea ehi la vi chiederete dove mi sono cacciato beh per cominciare a una iniziativa così avventurosa non potevo chiedere che a roma a grande roma immortale roma che mi desse una mano beh siamo venuti a cercare amici che mi hanno assicurato la loro presenza durante il mio percorso formativo che vi riguarderà intanto cominciamo a vederci domenica 24 al pertini centro culturale dei salici 9 salice ma che vi aspetto su sarà una giornata assolutamente particolare ci saranno dei colleghi che vi daranno veramente qualcosa di spettacolare da vedere da fare allora mi raccomando domenica 24 open day al pertini dalle 15 alle 19 poi dopo chi si vuole fermare facciamo un bel giro pizza ciao ragazzi a domenica ciao